aspettavate un altro video eh bene oggi sono qui per raccontarvi la storia di l'erio ebbene sì ho assistito a un ban direttamente con i miei occhi il titolo non è clickbait hanno letteralmente bannato una persona mentre parlava in voip con me durante il ride per farvi brevemente il riassunto di quello che è successo durante la mia diretta di ieri sera mi scrive in chat un ragazzo di nome l'erio che mi dice appunto hey kilner ma sono stato bannato così dal nulla ero in partita mi si è spento il gioco e adesso ho l'account bannato e allora da lì ovviamente non conoscendolo non sapendo chi fosse questa persona abbiamo iniziato con tutte le classiche domande di rito per cercare di isolare il motivo del ban a detta di questa persona non fa uso di alcun tipo software illecito mi ha mandato tra l'altro poi anche i log della partita mi ha fatto vedere diverse cose del suo pc per cui ho motivo di credere nella sua onestà insomma esce fuori che lui il gioco l'ha comprato su instant gaming per chi di voi non lo sapesse instant gaming è un sito di rivendita di chiavi che per un gioco come escape from tarkov può essere motivo di ban perché non sai mai la chiave che vai a comprare potrebbe essere una chiave rubata da qualcuno comprata con dei soldi ruba insomma per vari motivi comprata magari in un altro paese poi attivata in europa ci sono mille motivi per cui una chiave comprata su instant gaming può risultare in un ban e per questo motivo io consiglio sempre di comprare tarkov solo esclusivamente dal gioco originale ma comunque chiusa questa parentesi lui ha effettivamente comprato un mese fa il gioco su instant gaming ci ha giocato per questo mese e di colpo si trova il pc bannato senza aver fatto nessun cambiamento nell'ultimi tempi nessun programma nuovo installato niente di niente per questo motivo io e anche la chat arriviamo alla conclusione è per forza perché comprato instant gaming bene il ragazzo si fa un nuovo account con una nuova email e compra nuovamente una edge of darkness sul sito ufficiale di escape frontarkov nel frattempo io e diegao stavamo giocando la nostra tranquillissima partita di streets quando succede questo ci stavamo lamentando del fatto che per 20 minuti non abbiamo trovato alcun player in mappa le mappe sono sempre più vuote probabilmente per paura di queste cose ma comunque succede questo tra l'altro scusate avevo la chat aperta che ho appena chiuso la live succede questo lo vedo tiro due botte mancato va in copertura dietro al camion dietro la macchina quindi il tizio scav player stava lutando noi gli lanciamo la granata e lui chiede per favore ragazzi non sparatemi sono nuovo per favore non sparatemi vieni qua ti giuro non ti ammazziamo vieni qua è italiano tranquillo 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 fermo un attimo io non ci voglio dire siamo noi sono io ok quindi le chance praticamente incalcolabili ma noi troviamo come scav player nella nostra partita da pmc il ragazzo che ha appena ricomprato l'account e questa è la sua prima partita da scav noi lo becchiamo quindi io gli droppo lo zaino prima che iniziate a dire che sia per colpa del fatto che io gli ho doppato lo zaino vi dico non è così perché tutto quello che avevo nello zaino chiaramente era foundy ride trovato in quel medesimo ride quindi non è stato bannato perché ha raccolto il mio zaino da per terra assolutamente no noi gli abbiamo semplicemente voluto cedere tutto quello che abbiamo trovato perché avendo letto la sua storia poco prima ci siamo un po' inteneriti davanti a questo ragazzo che poveraccio arriva a livello 42 lo bannano senza motivo si ricompra un altro account lo becchiamo nella prima partita insomma l'abbiamo voluto aiutare vi faccio vedere come continua la storia chiedo di entrare in copertura perché effettivamente eravamo in mezzo alla strada da un po' vai ti porto dentro la roba entra in quell'edificio te la prendo te la porto dentro io io il mio zaino entriamo dentro quindi in tutto il ride l'unica persona che abbiamo trovato sei tu scav player appena bannato sei l'unico che abbiamo incontrato in tutta la mappa roba da pazzi roba da polenta palle e che uscite hai come vedete gli droppiamo del loot per terra io inizio a chiedergli che uscite ha perché volevo scortarlo all'uscita ha comprato il gioco sui stand gaming catacombe ce l'hai pozza pozza di ventilazione tombino fognario ricesa nel sottosuolo ok allora vieni con noi ti scortiamo fino al cinema poi l'estrazione e il funghetto di cemento oltre le scale del cinema nel prato l'abbiamo 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 e mi dispiace per il povero l'erio fa ridere ma così davanti ai miei occhi l'erio è stato bannato a cinque minuti dall'acquisto di una nuova edge of darkness con un nuovo account e non sappiamo il motivo poi visto che posso capire che magari non vi fidate di quello che vi ho appena detto vi posso anche dire che comunque l'erio mi ha mandato gli screenshot del suo del suo client comunque logato all'interno del 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 gioco con effettivamente il gioco bannato ve lo faccio ve lo faccio vedere malandrino 90 21 bannato e lo stesso vale per l'altro screenshot del suo account appunto si trova adesso con due account bannati questo indica per quanto mi riguarda chiaramente un ban di livello ip o comunque ardor perché tempo che lui rientra in partita si trova bannato e non ha senso sta cosa cioè non esiste né in cielo né in terra questa roba qua quindi veramente non riesco a capire perché un ban del genere tra l'altro lui mi ha fatto vedere appunto abbiamo parlato per un po' e roba strana sul computer non ce l'ha tra l'altro il gioco ha giocato tranquillamente un mese senza nessun problema oggi lo bannano compra di nuovo il gioco e lo ribannano nuovamente al che io ho detto vabbè non ti prometto niente ma prova a contattare i miei contatti in bsg ci dovrebbe essere il community manager prova a chiedergli qualcosa e vedere se almeno riusciamo a capire perché è successo questo vi leggo i messaggi io ho scritto e posso disturbarti un minuto un ragazzo nella mia community è stato permabannato dopo un mese di gioco e ha comprato la chiave originale su instant gaming e quindi abbiamo pensato che potesse essere quella la ragione ha creato un nuovo account ha comprato una nuova copia ed è stato nuovamente bannato la risposta è non mi occupo di sbannare le persone deve contattare battle eye al che rispondo ok praticamente è stato bannato due volte di fila qual è il modo più rapido per sapere la ragione del ban risposta contatta battle eye nessuna casa di gaming vi dirà mai le ragioni dietro a un ban risposta mia lo capisco però chiaramente il ragazzo vuole capire se può giocare in futuro siccome è stato bannato su un account nuovo di pacca senza spiegazioni terza risposta di nuovo il miglior modo è contattare battle eye quindi da quanto per quanto riguarda battle state un scaricabarile all'anticheat anche se per chi non sapesse esattamente come funzionano queste cose battle eye non banna ma battle eye si occupa di segnalare eventuali software malevoli o incorrettezze a battle state e battle state effetto ai ban quindi mezza bugia qui bene mio dovere di cronaca è stato fatto anche oggi non prendo una posizione su questa cosa qua perché non si sa mai ripeto potrebbe essere che effettivamente il ragazzo fa qualcosa di sbagliato ma non lo sappiamo e per quello che ho visto io io credo di no cioè sono più per il no che per il sì battle state a questa risposta estremamente conservativa e che dire traete voi le vostre conclusioni il ragazzo ha perso 300 euro per due account edge of darkness bannati nel giro di 20 minuti al prossimo video